No, ti facessi più! No, ti facessi più! No, ti facessi più! Cosa è successo? La cameriera ti ha fatto un fucchiote? No, Massimo, è stato ludo. Non è stata la cameriera che è venuta prima. No, è stato ludo. Puoi scrozzare le mani. Dai, vabbè, la lana non ti dice niente, no? Scusate, direi un attimo. Non ci crede che è stato ludo. No, non ci crede. Non ci credo. E dai, che riguata l'ha fatto. No, no, ti è proprio attaccato di brutto. Questo non ci caggia da due giorni, eh? Stavo scrivendo adesso all'analisi. Sì che sta giocando adesso.